Salve a tutti ragazzi, sono Marlo Minente, allievo di Marco Pellegrino. Capire di essere il tutto è complesso per due semplici motivi. Il primo motivo è perché immersi nella nostra quotidianità, in questo capitalismo egoistico, individuale, tutti quanti difficilmente andiamo d'accordo con gli altri perché l'altro è visto come una diversità, come qualcosa che altro, dal mio io, da ciò che mi è più intimo. Però, ripeto, al di là di ciò, al di là del contrasto con le persone, delle incomprensioni, delle falsità, al di là di tutto ciò, proprio da un punto di vista filosofico, è difficile pensare, capire, tra virgolette, immaginare di essere il tutto. Perché tutta la storia della filosofia dice che esiste una parte che è assolutamente opposta al tutto, dove la parte è una complessità infinita e il tutto è una semplicità infinita. E soprattutto il tutto, in qualche modo, fa sussistere la parte. O, nel linguaggio di Severino, l'indecifrabile, che è il tutto semplice, che però è cosciente delle complessità, delle contraddizioni C, cioè delle parti, è in qualche modo il nostro io, nel nostro inconscio più profondo. Quindi nel discorso di Severino non c'è una sussistenza della realtà, però comunque nel discorso di Severino c'è una gradualità, perché nel discorso di Severino il cosiddetto tavolo che io ho di fronte non è il vero essere. Perché il vero essere è l'indecifrabile. Quindi io mi rendo conto che è complesso capire il discorso di Pellegrino. Magari qualcuno può anche non far piacere pensare di essere il tutto, cioè pensare di essere il tavolo che si ha davanti, il vicino di casa, con cui magari saranno degli scontri. Insomma, tutte le persone, no? Che magari non ci piacciono, ci non ridiscono, l'insegnante, insomma, il gatto, il serpente, la galassia, insomma, è difficile da capire. Però quello che si sta cercando di dire è che questo discorso non è un out-out, non è una possibilità. noi o siamo il tutto, o siamo il tutto, o meglio, o siamo il tutto, o saremo il nulla assoluto, cioè non c'è una terza via, non c'è una possibilità alternativa. Noi siamo il tutto, punto. è così che stanno le cose. Perché, ripeto, se fossimo una parte del tutto, allora il tutto non sarebbe il tutto se fossimo soltanto una parte del tutto. perché il tutto non sarebbe cosciente di essere quella parte. Quella parte sarebbe distaccata dal tutto, cioè non sarebbe una parte in quanto parte. Il tutto non sarebbe il tutto in quanto tutto, cioè anche in quanto parte.